Terza Epistola di Giovanni Apostolo L'anziano al diletto gaio che io amo nella verità. Diletto, io faccio voti che tu prosperi in ogni cosa e sti sano, come prospera l'anima tua. Perché mi sono grandemente rallegrato quando sono venuti dei fratelli che mi hanno reso testimonianza della tua verità, del modo nel quale tu cammini in verità. Io non ho maggiore allegrezza di questa, di udire che i miei figlioli camminano nella verità. Diletto, tu operi fedelmente in quello che fai a pro dei fratelli che sono per di più forestieri. Essi hanno reso testimonianza del tuo amore dinnanzi alla Chiesa, e farai bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del nome di Cristo senza prendere alcunché dai pagani. Noi dunque dobbiamo accogliere tali uomini per essere cooperatori con la verità. Ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Dio trefe, che cerca ad avere il primato fra loro, non ci riceve. Perciò se vengo, io ricorderò le opere che fa, cianciando contro di noi con male parole. E non contento di questo, non solo non riceve gli stessi fratelli, ma quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo, e li caccia fuori della Chiesa. Di letto, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha veduto il Dio. A Demetrio è resa testimonianza da tutti e dalla verità stessa, e anche noi ne testimoniamo, e tu sai che la nostra testimonianza è vera. Avevo molte cose da scriverti, ma non voglio scrivertele con inchiostro e penna, ma spero vederti tosto e ci parleremo a voce. La pace sia con te. Gli amici ti salutano, saluta gli amici ad uno ad uno.